no col fatto che sei nello spazio e mi sa che ci va di là oh badass 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 2 scusate scusate c'è un altro eh si si quando uccidi si si divida molto simile adesso ecco ne escono poi due come ancora eh beh e da badass diventa quello poi da lui ne escono due ormai poi da qui si è mai dovuto uscire gli altri piccoli ok allora di qua c'è una site peste che 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 mi incastra nella roba che 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 a la parte subassata dunque qua Qua secondo me si passa da quei lavori là in fondo Quindi c'è da fare il giro Anche se sotto c'erano dei Dei pezzi di roccia sulla lava Però Non rischiamo C'erano dei pezzi di roccia sulla lava Dove secondo me ci si poteva saltare sopra Però No non mi fa salire di qua I pezzi di roccia non possono essere raggiunti Vediamo wow ah ma anche un genio che mi chiede Badass crack on that Oh I 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 due dunque ma qua c'è un oskit che non posso prendere gun damage per 2 più 009 per 100 però fa schifo secondo me sì no non è niente di ma io mi butto ma non vedo l'ora di prendere potenziamento che posso sparare mentre corro oh mio cos'è solo assomno e basso in acqua ma poca miseria e c'ha il robottino l'acqua per l'aiuta questa roba però funziona bene con la mia skill eh sì effettivamente direi che fa un balle poi il robottino è il terzo protocollo dei claptrap sembra giusto non 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 no come maledetto robotino blightwire oh eh badass come un ammazzo arrivo arrivo aia aia ho abbattuto un badass aia no ho fregato la key dove sta grazie grazie mi da troppa accuratezza vabbè poi si ricarica tipo subito anche quello è comodo la tua skill dobbiamo salire qua vicino mi sa per fare la side quest devo equipaggiare un'altra arma perchè ho finito le munizioni io lo faccio costantemente ecco qua c'è una cassa nooo grazie tutto bianco assurdo non 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 wow non non 50% Grazie per la squadra Sì, posso sentire ora Ok, ultima domanda Voglio che trovare un ragazzo Nell Ora, direi che è un ragazzo Ora sei un ragazzo Il ragazzo dice che sei un ragazzo Che succede? Ma che c***o Scusate che non posso dare un ragazzo Ma, sai, sono morto Ancora, grazie Vault Hunter I want to thank you for fulfilling Captain Thorson's last wishes Head to the following coordinates Eh? Eh niente, gli hai detto Che è un c***o E lui ha reagito Mar Oh, meno Mar No, ecco qua Ah, c'è una cassa della bar Vediamo che c'è Pistolia Hyperion Bradoff Monoschifo Pistolia Hyperion Merda Ah, non c'è una armi elementari Beh, però Ah, beh, io sono adesso un mondo brado Beh, è un motoro Ossigeno Ossigeno Dunque, adesso Vediamo Allora, abbiamo E i poster che era pagato Quindi lasciamolo stare fino alla prossima sessione Esatto Eh, mettiamo l'altra Come? No, ho detto Quella dei poster Era quella buggata Quindi facciamola dopo che Sì, la Ah, già La prossima La giocata, insomma E se usiamo la stazione per viaggiare rapidamente potremmo tornare subito alla mampa dove c'è la side quest Sì, prendiamo questa che sblocchiamo i veicoli, mi sa Ah, però bisogna... Ah, ok Prima di fare questa Secondo me ci conviene Ma no Ok Così Buona, buona Oh, bravo Ah, c'è il mister pod Laser moon Allora Ah, ho messo il mitraglione laser Oh, arrivo, arrivo Anch'io, anch'io No, non c'è posto Ah, è solo due Sì Adesso sì Allora, fammi Eh, però allora io metto questo qua E la facciamo rosa Perfetto La Wow Hey, survived That was me high-fiving myself They're looking for me so I gotta go radio silent Find the jamming signal, shut it down and return to Helios Perfetto Ah, già, è vero che ci guida come... Non consuma l'ossigeno mentre sei sul veicolo Eh, potrebbe essere di no Potrebbe essere di no Dunque, aspetta, aspetta Che non lo vediamo, però abbiamo comunque le maschere Forse no, c'è le grave veicole via Quattro trap, cosa succede con il tuo giro? Steward-bot non dovrebbe essere aiutato a guadagnare? No No Weeeeeeeh The revolution Jack turn me into a soldier Apart from the fact that I've lost my sense of self And no longer value human life It's totally awesome Bene Ah, ma avete anticipato Yeh, vedi che ho fatto bene Mh E' tutto calcolato, ragazzi Tutto calcolato Ma io ho visto un salto, ho detto Aspetta che uso il turbo No, ho usato anch'io, ma ho usato troppo mare Ah, ho capito Torniamo da lei o facciamo questa? Facciamo questa, dai Infatti questi proiettili sono di fuoco E loro resistono Ah, si, il gas è di deposto è fuoco Come ne vengono? Tu muovi Ok Ok Ah Alla prossima. Regoli French Bello Lantern nuovi Si Ok E ho questi tutti adesso dobbiamo metterli No, tanto ce l'ho Ah No, tanto ce l'ho No, tanto ce l'ho No, quella vocina No, tanto ce l'ho No, tanto ce l'ho No, tanto ce l'ho No, tanto ce l'ho Explosions No, tanto ce l'ho 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 No, tanto... No, tanto ce l'ho No, tanto ce l'ho Non ci sono No, tanto ce l'ho No, tanto ce l'ho Che c'è? eeeh neanche io riesco a muovermi esci tu e via che sei l'ultimo c'è il tunnel, c'è il tunnel mmm oh mio dio c'ho Gesù di Colone che mi sta chiedendo qualcosa può diventare opieno cosa cambia da uno all'altro? ah ho qualche statistica, però scusa perchè li butti se c'è la macchina per vendere di fianco? eeeh perchè intanto prendevo su quella roba lì poi adesso dopo la andrò a vendere allora vado a vendere opa un attimo vado a vendere un attimo sì, la maggior parte dei miei mercadizzi sono riusciti dalla mano di avventuratori morti vado a vendere prima di pagare ma alla fa vedere lo shield cosa fa? è nuova, explore ah no perchè c'era la scritta rossa e pensavo facesse qualcosa di strano ma Oddio cos'era? Cosa? No il mio cellulare Boom Ah eh può essere Va bene mi hanno appena spostato dalle 8 e mezza alle 7 e mezza l'appuntamento per stasera Quindi siccome devo andare via direi che possiamo finirla qua